È un momento importante per la comunità di Frassi Longo perché con questo nuovo automezzo cresce la tecnologia, cresce la strumentazione dei vigili del fuoco di questa valle. Noi dobbiamo continuamente investire come istituzioni nella potenziare gli strumenti messi a disposizione dei vigili del fuoco. Sappiamo che oltretutto anche in un momento di forte cambiamento della meteorologia, lo vediamo quotidianamente, è importante avere a disposizione mezzi che permettono ai vigili di poter agire in sicurezza e mezzi che agendo mettono in sicurezza il territorio.